Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, ci sono importanti sviluppi sul fronte del conflitto ucraino che confermano come all'interno dell'Unione Europea ci siano numerose forze che spingono per un'escalation della guerra, ma necessitano di eliminare un ostacolo ai loro progetti, l'Ungheria di Orban. Vediamo i fatti e il retroscena trapelato da fonti ufficiali. Il ministro degli esteri belga, Adia Labib, membro del club globalista del World Economic Forum, ha sostenuto che l'Unione Europea dovrebbe privare l'Ungheria del diritto di voto per salvaguardare il futuro dell'Unione. Questo perché a luglio Budapest assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Il Belgio, l'attuale detentore, fa parte di un gruppo di paesi frustrati per l'opposizione dell'Ungheria ai piani chiave dell'Unione Europea, compreso il sostegno all'Ucraina nel conflitto con la Russia. Penso che dobbiamo avere il coraggio di prendere decisioni, andare fino alla fine dell'articolo 7, attivare fino alla fine l'articolo 7, che prevede la fine del diritto di veto, ha detto domenica a Politico la ministra belga. Torniamo un po' indietro nel tempo. Il Parlamento europeo ha votato per avviare la procedura contro l'Ungheria nel 2018, accusando il governo del primo ministro Viktor Orban di indebolire lo stato di diritto attraverso presunti attacchi ai media e alla magistratura, ma il processo si è bloccato a causa dei disaccordi tra gli stati membri. Orban, che è un forte critico della posizione occidentale sulla crisi ucraina, ha sostenuto che armare Kiev contro Mosca non è riuscito a fermare le ostilità e che le sanzioni hanno inflitto più danni all'Unione Europea che alla Russia. Come abbiamo riportato recentemente, Budapest ha ripetutamente utilizzato il suo potere di veto per bloccare le restrizioni commerciali alla Russia, che considera una minaccia per gli interessi ungheresi e per limitare i finanziamenti all'Ucraina. Di conseguenza, la Bib ha accusato il governo Orban di adottare sempre più un atteggiamento transazionale di blocco e di veto nei confronti degli affari dell'Unione Europea. Questo è il momento della verità, ha detto riferendosi alla minaccia dell'articolo 7. Se andiamo fino in fondo con questo meccanismo, deve funzionare. Se non funziona, dobbiamo riformarlo. Questo è il futuro dell'Unione Europea. L'Ungheria è l'unico membro dell'Unione Europea attualmente ad affrontare tali procedimenti e anche se lui ha sbloccato 10 miliardi di euro come ricompensa per l'impegno verso alcune riforme, miliardi di euro rimangono congelati. Detto questo, perché proprio ora si vuole sospendere il diritto di voto all'Ungheria? Le decisioni più importanti sugli aiuti all'Ucraina saranno discusse al tavolo del Consiglio Europeo di giugno e, come detto, l'Ungheria sta per assumere la presidenza di turno dell'Unione Europea. I globalisti sono sempre più preoccupati che Budapest possa far deragliare la loro agenda. A conferma di questa tesi, un portavoce della rappresentanza permanente dell'Ungheria presso l'UE ha detto «La principale preoccupazione dell'Ungheria ora è tenere l'UE fuori dalla guerra nel nostro vicinato. Se la guerra raggiungesse l'UE, allora l'articolo 7 sarà l'ultimo dei nostri problemi». In tutto questo c'è un retroscena riferito dal Financial Times che cita un documento di discussione trapelato secondo il quale gli Stati Uniti sono pronti a fornire all'Ucraina un prestito di 50 miliardi di dollari rimborsato con i profitti dei beni congelati della Russia se l'Unione Europea estenderà indefinitivamente le sanzioni contro Mosca. L'articolo cita un documento di discussione dell'UE in cui afferma che Washington ha bisogno che Bruxelles estenda le sanzioni dell'UE sui beni della Russia, che scadono ogni sei mesi, a meno che non siano rinnovate con consenso unanime fino alla fine del conflitto in Ucraina per garantire il rimborso del debito. Tuttavia, il rapporto afferma che l'approvazione richiede il consenso unanime di tutti i leader dell'Unione Europea, compreso il primo ministro ungherese Viktor Orban, che ha posto il veto a molte decisioni relative alle sanzioni. Gli Stati Uniti stanno spingendo per un accordo in vista del vertice del G7 previsto in Italia la prossima settimana. E l'opzione principale presa in considerazione è il piano di Washington di prestare denaro a Kiev, possibilmente insieme ad altri Stati membri del G7, più o meno pari ai profitti inattesi stimati dai beni congelati della Russia. Commentando la situazione relativa ai beni congelati russi, Vladimir Putin ha definito le azioni dell'Occidente affari sconvenienti e ha avvertito che rubare i beni altrui non ha mai portato del bene a nessuno. I popoli non hanno alcun interesse in una terza guerra mondiale, a differenza delle elite globaliste. Riuscirà il buon senso a prevalere? Ci sono possibilità di arrivare perlomeno ad una parvenza di pace? In caso contrario, un infallibile antico proverbio recita chi semina vento raccoglie tempesta. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su YouTube e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby. Prima di concludere volevo ringraziare Kijani Life, una realtà italiana che propone un depuratore d'acqua con tecnologie uniche e innovative basate sulle ricerche scientifiche di quattro pionieri degli studi sull'acqua e del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto. Un depuratore molto apprezzato perché lavora sulla struttura biofisica e biochimica dell'acqua. È in grado di cambiare cristalli di H2O attraverso un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua, contribuendo così a irrobustire il nostro sistema immunitario.